registrazione video full hd da unidigi crystal oggi c'è abbastanza bianco zoom digitale 4x come vedete risoluzione devo dire abbastanza scarsa cambio di luce cambio di messa a fuoco ce la fa non ce la fa faccio io un tap ecco qua di nuovo all'infinito facciamo anche un movimento rapido anche se in realtà non aveva rimesso a fuoco registrazione video full hd unidigi crystal senza ultima di nuovo